Tutti a casa! Tutti a casa! Ciao a tutti davvero! E grazie per questo affetto che dovunque andiamo ci accompagna perché vi voglio dire che non c'è mai niente di scontato nelle cose che si fanno e quando si riscontra poi questo affetto è davvero incredibile è un sogno, è una rivoluzione che sta avvenendo giorno per giorno in Italia e che io ogni volta ringrazio di cuore tutti quanti davvero, grazie mille, grazie mille Io vi voglio dimostrare come è tutto collegato in quello che si dice, in quello che si fa prima Alessandro ha parlato delle concessionarie delle slot machine allora le concessionarie delle slot machine fanno anche delle pubblicità e nel nuovo contratto di servizio, che è il contratto che regola i rapporti tra la RAI e lo Stato e quindi lo Stato dice che cosa può e che cosa non può fare la RAI nel nuovo contratto di servizio stiamo inserendo la norma e l'emendamento al contratto che dice che saranno vietate le pubblicità per i giochi di azzardo nella televisione pubblica e cercheremo tutti insieme nella commissione di portare a casa questa norma dobbiamo capire come è sempre tutto collegato prima si parlava di comunione e liberazione comunione e liberazione è altra cosa incredibile ho scoperto che la RAI, sentite bene questa, sentite bene questa ho scoperto che la RAI stava per dare 750.000 euro a comunione e liberazione per seguire i suoi eventi a Rimini il meeting dava 750.000 euro per tre anni 250.000 euro all'anno per seguire il meeting di comunione e liberazione è come se noi al VD3 avessimo chiesto un milione di euro alla RAI per seguire il VD3 ma è il mondo all'incontrario e quindi che cosa ho fatto? ho fatto un'interrogazione alla RAI come presidente della commissione e ho detto ci voglio vedere chiaro su questo nuovo contratto commerciale hanno risposto, hanno motivato questo contratto commerciale però io sono andato a dirlo ovunque alle televisioni e ai telegiornali sui profili Facebook, al gruppo parlamentare e dopo 15 giorni mi arriva una lettera ufficiale alla RAI che diceva non ci sono più le condizioni commerciali per portare avanti questo contratto e abbiamo risparmiato altri 750.000 euro dati a comunione una cosa importante che dobbiamo capire tutti, sempre è che il Parlamento così come noi lo abbiamo in mente non esiste, è metafisica pura è qualcosa che non corrisponde alla realtà noi pensavamo che nel Parlamento si facessero le leggi le leggi questo Parlamento non le fa fa solo decreti legge noi pensavamo che nel Parlamento i parlamentari si parlassero decidessero le cose nelle commissioni e non è vero, ci sono i lobbisti fuori che decidono le cose per la commissione ci sono i lobbisti di Sorgenia ci sono i lobbisti di tutte le aziende e gli unici lobbisti che non ci sono sono i lobbisti per i cittadini e quindi dobbiamo fare i tesserini per fare entrare tutti i cittadini che devono diventare lobbisti tramite il Movimento 5 Stelle e devono essere presenti lì fuori la porta della commissione bilancio e non quelli di Sorgenia tutti presenti là, i precari, i pensionati i disoccupati e poi vedremo che leggi faranno voglio e ce la facciamo ce la facciamo tutti a casa tutti a casa tutti a casa allora al di là adesso adesso chiudo al di là di tutti gli slogan che ci fanno bene per darci un po' di calore come lo slogan vinciamo noi come lo slogan tutti a casa perché veramente vogliamo vincere veramente vogliamo mandarli tutti a casa però dobbiamo tutti quanti insieme uscire da una logica qui quando si parla di elezioni non si tratta più di vincere o di perdere dobbiamo uscire da questa logica di essere tifosi di una persona di essere tifosi di un partito basta questa cultura è morta e novecentesca dobbiamo chiuderla qui non si tratta più di vincere o di perdere qui si tratta di cambiare e la risposta che dobbiamo dare quando la domanda è che cosa vogliamo essere che cosa vogliamo fare e se vogliamo davvero cambiare o rimanere come siamo perché se la risposta è che vogliamo cambiare tutti insieme allora vinciamo tutti questa è una guerra che non può lasciare nessuno indietro e quindi quando ci diranno volete vincere o volete perdere conquistiamo noi la risposta che io do è che vogliamo cambiare perché se vogliamo cambiare tutti insieme vinceremo tutti e quel giorno sarà meraviglioso perché ridiventeremo una comunità una comunità che è fatta di persone che solidarizzano l'una con l'altra con progetti diversi e adesso chiudo davvero qui e volevo come al solito ringraziare tutti e dire che è un gruppo parlamentare intero che sta lavorando le cose che diciamo le ha studiato e magari qualche altro parlamentare in un'altra commissione è un gruppo che vince non sono i singoli e così come non vince un pezzo di cittadinanza ma vincono tutti i cittadini insieme è lo stesso coraggio coraggio grazie 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 grazie